Il senso è stato visto e considerato il processo contra di te, formato e le confessioni del lico e errori e delle zie, con perfinanza la sua nazione, perché tu nevi di essere tali che tutte le altre cose da vedersi e considerarsi, siamo venuti alla intrascrita sentenza. Invocato tutto il nome di nostro Signore Gesù Cristo, che è la sua gloriosissima madre sempre regge di Maria, il nostro santo ufficio d'altra parte è vero, raccordato di uno, pre-devo, pre-inquisito, processato col vero, benitenti, osminato e perfinazio occupato dall'altra parte, con questa nostra definitiva sentenza, quale vi consegno e parere che leggeremo in parte, maestri di sacra teosia e dottori dell'una e dell'altra niente, i nostri consultori, proprimendo in questi scritti, dicendo, pronunciamo, sentenziamo, chiediamo te, fra Giordano Bruno, pre-devo, essere re, impedimenti, perdinace e ostinato e perciò essere intercorsi in tutte queste censure etnesiastiche e perdere le sacre grandi, leggi e costituzioni così generali come particolari e tagli elettrici complessi, impedimenti, perdinaci e ostinati in ponte. e con la te, te, te gradiamo, per bambini e te chiediamo, doverà essere scacciato dal fuoco del nostro eclesiasto e dalla nostra santa e della immaculata chiesa, dalla cui misericordia che c'era il tempo. Di più, sottolineiamo, riprodiamo e proibiamo tutti i sovrappelli e dati quelli scritti e scritti come le reti e le ordone e con diventi morte e esilie ed errori, ordinando che tutti quelli che si torci sono avuti e per l'avvenire, per avere in mano del santo ufficio, siano pubblicamente buoni ed abbracciati nella pianta di San Piero, avanti alle scale, come tali siano posti nell'indice dei libri proibiti, sì, come obbligiamo che si faccia. Grazie. 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 Grazie.